allora dov'è il pastore il pastore Maurizio allora il pastore Maurizio poi saluterà tutti i fratelli che sono venuti anche da diciamo da nel raggio di 50 km forse e poi lo farà dopo però già dice no mi sono dimenticato no non c'è problema siamo in famiglia credo no? si o no? allora intanto vi porto i saluti di tutta la nostra famiglia di cui comunque è il nucleo nel nucleo di Missione Paradiso vi salutano tutti hanno pregato da tempo e credo non so se siamo in diretta e quindi alcuni sono collegati ovviamente quindi io mando un bacio tanto domenica ci vedremo perché viaggeremo di notte domani sera che Rainer ha fatto un volo speciale a mezzanotte diciamo alle... no proclamo alle mezzanotte no alle 11 e un quarto e sono stati giorni belli complicati onestamente perché abbiamo avuto anche uno dei nostri fratelli meravigliosi il nostro anziano ad Avellino che ci ha lasciati proprio ieri al mezzanotte dieci minuti trascorse la mezzanotte quindi oggi abbiamo fatto un saluto che come sempre ha fatto emergere quell'amore del padre nonostante è il solito pianto che si può tramutare in gioia perché si sa che noi non siamo come quelli che che sono senza speranze e il Signore mi ha dato oggi un versetto che è in Proverbi 8.6 che dice ascoltate perché parlerò di cose importanti e le mie labbra si apriranno per dire cose giuste io ovviamente l'ho detto già al pastore Maurizio quando è stato scelto questo tema questo titolo diciamo ovviamente sullo Spirito Santo credo che si sia detto tutto invece in realtà quello che oggi cercherò di dire non è fare un insegnamento teologico fine a se stesso ma attraverso degli insegnamenti come la parola di Dio ci riporta vedremo l'opportunità che è la comunione con lo Spirito Santo per questo lo so ci vuole ventilatore acqua di tutto però potevamo fare a bordo piscina questa conferenza bello era vero? allora vorrei che entrassimo subito perché io avrò due momenti insieme a voi per cercare di mettere insieme quello che credo il Signore abbia depositato dentro di me per noi dico per noi perché io mi ascolto nel frattempo e è vero che non vogliamo andare via come siamo entrati spero no? per questo io non credo di essere un oratore sì in realtà quello che io desidero è essere un mezzo di trasporto come cerchiamo di essere ogni volta che anche il giovedì il Signore ci mette insieme con l'Apostolo Lirio da diverso tempo per portare delle istruzioni delle istruzioni veramente che vengono dal cielo subito voglio entrare nel vivo della parola quando in 1 Corinthians 3.16 c'è scritto non sapete voi e nel dire non sapete voi significa che non è così scontato no? che il fatto che le cose stanno così poi viene saputo da tutti non sapete voi in una chiesa evangelica si fa di a quello che si trova alla tua destra e che lui dice ma lasse me stare non sapete voi che siete il Tempio di Dio? non sapete voi che siete il Tempio di Dio? chi è che non lo sa? per esempio ok te lo dico io non sapete voi che siete il Tempio di Dio che lo Spirito di Dio abita in voi? e non voglio ripeto avere la la tentazione di spiegare le parole e i termini questo è un predicatore nato ma dice che erano i piccoli erano tutte questo è il numero zero il numero il numero zero no lascialo lascialo basta metti ciuccio sorella hai dei capelli stupendi me ne servono un pochettino qua no no non lo fate andare via capare brutto dategli il link Luca 316 Giovanni risposo Giovanni Battista io vi battezzo in acqua o con l'acqua ma viene colui che è più forte di me al quale io non sono degno di sciogliere le gacce dei calzari egli vi battezzerà cioè vi immergerà in spirito santo e fuoco ora essere battezzati nello spirito significa essere immersi essere immersi significa non solo bagnati ora vi posso dire una cosa con molto rammarico io vedo tanti bagnati e pochi immersi no no qua dico in generale perché essere immersi nello spirito santo cosa comporta io non so se voi vi ricordate nella mi sembra che sia il capitolo 44 di Ezechiele quello del fiume perché c'è il 47 che parla di una cosa e il 44 se non erro e parla della visione che ha avuto Ezechiele di quel fiume in cui tu potevi scegliere se guardarlo se entrare dove l'acqua ti arrivava alle caviglie fino a dove l'acqua ti arrivava al ginocchio alla vita fino a quando invece venivi totalmente immerso in questo fiume vi ricordate? ok quindi il problema è che tutto quello che non è immerso è ancora fuori da quella che è la possibilità che lo spirito santo ti renda colui ripeto che può fare la differenza fra un prima e un dopo il problema di essere bagnato dallo spirito santo potrà capitare anche in questi due giorni perché quando due o più di due sono riuniti nel suo nome lui è in mezzo a noi ma essere in mezzo a noi significa che è garanzia di essere in noi lui ha distinto vi ricordate il capitolo 14 di Giovanni Gesù disse sarà con voi e sarà in voi in noi essere battezzati significa essere totalmente tutto ciò che viene ricoperto perché l'olio dell'unzione domani se il Signore mi conferma parlerò proprio dell'unzione visto che poi del resto quello è il prodotto no? è l'effetto che si produce per poter essere legittimamente rappresentanti del cielo sulla terra avere l'unzione del santo no? e quando noi vediamo che in realtà l'olio quando scendeva cioè l'olio l'unzione la differenza di qualsiasi altro elemento l'olio così viscoso così diciamo denso non c'è una parte nel momento in cui ricopre che possa essere scoperta l'unzione è qualcosa che ti copre totalmente che cioè ti mette nelle condizioni di non avere zone scoperte se vuoi essere totalmente immerso questo è l'obiettivo infatti Giovanni 14 Gesù disse io pregherò il padre ed egli vi darà un altro perché è già il primo l'originale senza il quale non avremmo avuto nessun accesso allo spirito santo vi darà un altro consolatore la parola è paracletos no? perché sarà con voi per sempre sarà con voi per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede non lo conosce voi lo conoscete e la parola qui conoscete non significa vi farete una cultura su di lui avrete una conoscenza teologica la parola ovviamente ghinosco che voi conoscete in greco che significa proprio avrete intimità che è la stessa parola che veniva usata diciamo per identificare anche l'intimità di coppia in un matrimonio quindi sarà voi lo conoscete significa avrete così tanta comunione con lui perché dimora dimora non ripeto sarà occasionalmente una sensazione dimora questo è l'obiettivo suo dimorare in noi e sarà in voi sarà con voi e sarà in voi non vi lascerò orfani e tornerò da voi ora in realtà però la paracletos ha diversi significati diciamo ma in realtà uno di questi è il nostro insegnante colui che ci insegna in realtà è qualcosa di costante non occasionale non è qualcosa che accade ogni tanto vi ho detto queste cose stando ancora con voi ma il consolatore versetto 26 lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome vi insegnerà vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto il capitolo 16 sapete che il capitolo 14 15 e 16 sono straordinariamente chiari e limpidi e sono le le cose fondamentali che Gesù ha desiderato lasciare come quelle ultime cose che si ricordano Giovanni 16 12 dice ho ancora molte cose da dirvi ma non sono per ora per ora momentaneamente alla vostra portata quando però sarà venuto lui lo spirito della verità e la parola verità è aleteia in realtà è il spirito della volontà di Dio aleteia significa appunto verità e volontà di Dio quindi lo spirito santo è la volontà di Dio con noi egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire il futuro di ognuno di noi e poi dice egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà se non è casuale se lo spirito santo ha ispirato diciamo il pastore Maurizio per usare questi due giorni che corrispondono praticamente all'anniversario dieci anni fa più o meno dieci anni fa avete iniziato questo mi diceva appunto l'inaugurazione proprio esatto dieci anni fa e non è casuale marcare un momento anche noi abbiamo fatto dieci anni con Missione Paradiso il 19 di marzo e non avevamo ricordato che c'erano che ha processione dei falsoletti no non ti preoccupare perché questi non erano buoni e ci sono dieci gradini nel nostro cosa e poi c'era la porta del cielo chissà se questo è l'anno buono va bene quindi se se lo spirito santo ha ispirato questo titolo significa che c'è un momento abbiamo bisogno visto che si parla di pneum ma cosa è di fare un daiando per capire come noi in questo momento siamo posizionati non rispetto a quello che crediamo di avere o di portare ma quello rispetto a come possiamo esserne pieni e se c'è un capitolo straordinario che diamo profondamente nella scrittura che cito spesso a me stesso è il capitolo 8 di Romani che è un'enciclopedia straordinaria che nel caso della diciamo dell'epistola ai Romani viene dopo il capitolo 7 Paolo non scriveva capitoli nessuno scriveva capitoli per una questione consultiva sono stati inseriti i capitoli ma in realtà è tutto un discorso il capitolo 7 parla della miseria del proprio cuore della propria natura umana e tutto il resto il capitolo 8 poi ci apre uno scenario straordinario ci dà anche le istruzioni per poter capire qual è la nostra comunione con lo spirito santo Romani 8 5 quello che leggerò dal 5 fino alla praticamente al 27 vi darò 8 punti che proprio il capitolo 8 più o meno ti dà in termini proprio pratici di che che significa essere in comunione con lo spirito santo quali sono i vantaggi e Romani 8 5 scrivi come primo punto ci dà pensieri veri e corretti per lo spirito santo noi possiamo avere pensieri veri e corretti versetto 5 infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito quindi il versetto 5 ci dice ci dà pensieri veri e corretti il versetto 9 ci dice che ci fa appartenere a lui voi però non siete nella carne ma nello spirito se lo spirito di Dio abita veramente in voi se qualcuno non ha lo spirito di Cristo egli non appartiene a lui lo spirito santo è come anche in altre il sigillo cioè è proprio il sapete quando l'appartenenza realmente a colui che ci ha chiamati dal buio alla sua meravigliosa luce e in realtà è la quello che è stato la benedizione più grande che potremmo immaginare essere partecipi della natura divina quindi appartenere a lui il versetto 11 ci dice che ci rende vivi se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dei morti abita in voi colui che ha risuscitato Cristo Gesù dei morti vivificherà cioè renderà vivi anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi filippesi 3.10 dice tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo la potenza della sua resurrezione la potenza della sua resurrezione la sperimentiamo già adesso non solo quando saremo trasformati anche con il corpo il versetto 13 sempre del capitolo 8 ci fa comprendere come lo spirito santo ci dà vita perché se vivete secondo la carne voi morrete ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo voi vivrete versetto 14 ci dice che lo spirito santo ci dà identità infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio non c'è confusione non siamo credenti e basta siamo figli versetto 16 dice lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio il versetto 15 ci dice che ci dà coraggio e allontana la paura e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù no? che è quello che noi eravamo dalla nascita nel mondo diabolico per ricadere nella paura perché c'è un pericolo che se noi non comprendiamo il valore assoluto di puntare alla comunione con lo spirito santo il rischio è di ricadere nella paura quindi dice il versetto 15 che avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba padre il versetto 17 ci conferma il diritto all'eredità ci fa eredi se siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio ecco eredi di Cristo se veramente soffriamo con lui per essere anche glorificati con lui infine versetto 26 come azione continua intercede per noi allo stesso modo ancora lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza e la parola è asteneia cioè mancanza di forza questa è la nostra natura mancanza di forza e viene compensata ribaltata totalmente dalla presenza dello spirito santo dice perché non sappiamo pregare come si conviene ma lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili e versetto 27 dice colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello spirito il nostro perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio allora ricapitoliamo romani 8 tutto quello che noi possiamo ricevere dalla comunione dalla presenza dal battesimo dello spirito santo è avere pensieri veri e corretti appartenere a lui ci rende vivi no ci dà vita ci dà identità ci dà coraggio e ci allontana dalla paura ci conferme il diritto all'eredità intercede per noi cioè scusate se è poco cioè praticamente è tutto è il contrario di quello che noi riceviamo con lo spirito del mondo lo spirito del mondo è qualcosa di come possiamo dire un'illusione di poter vivere quando si è morti due volte come diceva Gesù stesso ora cosa non è lo spirito santo lo spirito santo non è una forza esecutiva di Dio io ho dovuto chiedere perdono allo spirito santo per avere pensato che era la forza di Dio cioè come se era una cosa e invece in realtà non è qualcosa ma è qualcuno e la parola lui quando noi abbiamo visto lui 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 vi insegnerà lui vi dirà lui la parola è eikenos in greco che è riferito a una persona non una forza in realtà è Dio con noi adesso l'altro quando in atti 1 versetto 6 c'è scritto ok ma è preceduto da Giovanni 16 quando dice è utile che io me ne vada perché quando io me ne andrò sarà molto meglio quando io non ci sarò ma non perché infatti non lo capirono perché in realtà colui che adesso è in noi può essere in chiunque vuole essere un suo figlio mentre Gesù non era onnipresente essendo l'agnello no? per questo lui si sarà molto meglio e quindi quando noi leggiamo che non è una forza ma è qualcuno significa che non è una sensazione non è un brivido non è il parlare in lingue solamente non è una un'azione mistica ma in realtà è neanche un'esperienza momentanea possiamo avere delle esperienze per lo spirito non c'è dubbio ma in realtà lo spirito santo è colui che ha ispirato i profeti è colui che parlava con i profeti riempiva i profeti quindi se è un lui ha emozioni e sentimenti infatti si può anche mentire allo spirito in atti 5.3 c'è scritto ma Pietro disse Anania perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo spirito santo tu non puoi mentire a una forza che è una forza che è un'energia mentire tu puoi mentire allo spirito santo lo spirito santo dà dei doni dà dei suoi doni come lui vuole secondo la propria volontà quindi significa una volontà propria lui ha distribuito come lui vuole primo corinzi 12 lo dice chiaramente ora il primo diciamo così che è quello personale è il dono delle lingue cioè è come se noi stessimo dando il controllo di noi stessi a Dio in realtà è il controllo della bocca come in proverbi Salomone diceva metti un guardiano all'uccio della mia bocca lo spirito santo controlla può controllare il nostro modo di parlare mi seguite cioè significa che se noi doniamo la nostra bocca a lui noi parleremo per lo spirito ma non significa non diremo delle cose comprensibili ma parleremo per lo spirito e attraverso lo spirito il cielo lo spirito santo di Dio il cosiddetto soffio del cielo che non è un soffio ma è una persona che produce questo soffio che lo spirito santo parlerà per bocca nostra cioè noi offriremo le nostre bocche a lui ci siete o no? quindi significa che lui ha delle emozioni Efesini 4.30 dice non rattristate la parola è lupeo rattristare significa rendere addolorato significa è scritto proprio così affettare con tristezza causare dolore addolorare offendere rendere scomodo cioè noi possiamo addolorare lo spirito santo tutto questo ha a che fare con il peccato dei figli di Dio quello che ancora nonostante siamo il tempio dello spirito santo come abbiamo detto all'inizio ancora ripeto qualcuno non vuole liberarsi totalmente di alcuni legami e in realtà è come se rende scomodo la parola non rattristate significa rendere scomodo è come se lo spirito santo a volte si sente fuori posto quando la nostra testa il nostro corpo vuole andare da un'altra parte e ci va significa addolorare causare dolore offendere lo spirito di Dio dice non rattristate lo spirito santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione il peccato lo addolora Giacomo 4-5 dice oppure pensate che la scrittura dichiara in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia io non so come si può immaginare una relazione differente rispetto a quella che lui desidera avere con noi o immaginare qualcosa di diverso rispetto all'opportunità che ci viene data di essere pieni e in comunione con lo spirito santo il problema del una cosa è essere pentecostali una cosa è essere pentecostaloidi una cosa è essere spirituali compatibili con quello che fino adesso abbiamo detto abbiamo solo toccato la punta dell'iceberg ed essere invece spiritualoidi essere pseudomistici sensazionalisti qua stiamo parlando di qualcosa di così concreto come era concreto Cristo Gesù nel momento in cui lui era pieno di spirito santo 2 Corinti 13-13 non ve lo dimenticate che è quello che vi ho citato prima dice la grazia del Signore Gesù Cristo è l'amore di Dio e la comunione che significa coinonia coinonia significa è quello che tu hai con un partner cioè tu con lo spirito santo puoi avere una partnership un'associazione socio compagno un rapporto di comunione intimità cooperazione quindi significa che lo spirito santo sia con tutti voi mentre che questo tipo di relazione tu lo puoi avere con lo spirito santo che ti è stato dato come una sorta di ponte fra il cielo e la terra fra il padre e il figlio che lo spirito santo rende compatibili attraverso la sua presenza è come un traduttore è come un traduttore semplice di qualcosa di complesso che noi non avremmo mai potuto immaginare in un libro viene mostrato come una specie di mamma ma non perché ma perché ha una mamma ma perché ha una come le mamme hanno una specie di complicità materna lui è come se fosse lo sponsor quello che crede più in noi quello che ci stimola più in noi è come è fiero di noi non so come ve lo devo spiegare è qualcosa di così dolce e forte nello stesso tempo come le mamme alla mamma puoi dire tutto la mamma ti copre la mamma è esageratamente piena di amore ora noi amiamo lo spirito santo non usiamo lo spirito santo noi non usiamo lo spirito santo ma amiamo lo spirito santo lo ripeto noi dobbiamo amare lo spirito santo non usare lo spirito santo avere comunione significa comunione continua significa quotidiana la comunione significa un atteggiamento volontario che io stimolo verso me stesso significa quando comunione con lo spirito santo significa che noi dobbiamo essere coscienti sempre che lui è in noi è come se noi fossimo non soli ma che noi trasportassimo attraverso di noi perché è così come abbiamo visto prima la sua presenza che non è la sua presenza è come una forza di un assente no lui è presente non assente quindi continuamente presente atti 1.8 dice che è quello più famoso di tutto ci sto rinfrescando la mamma perché dobbiamo aprire con una chiarezza e poi vi dirò dove andremo a concludere fra poco atti 1.8 dice ma riceverete potenza sì è una potenza inaudita la parola dunamis sapete bene che Luca significa quando lo spirito santo verrà su di voi cosa produce la sua presenza produce testimonianza perché la sua presenza non ho il tempo di poter dire tutto perché lo spirito santo noi potremmo stare sette mesi in maniera totalmente ininterrotta e sarebbe sempre poco rispetto a ciò che lui può produrre in noi sapete che significa che quando questa potenza viene su di noi mi cambia completamente il mio modo di pensare e trasporta dentro di me Romani 5.5 quell'amore di Dio con il quale io posso amare gli altri e la testimonianza viene da un interesse che l'amore di Dio sviluppa dentro di me la stessa brama di Cristo nel cercare di riconciliare riconciliare il mondo è la stessa brama che in Cristo era 2 Corinthians 5.17 fino al 20 quando lui dice che Dio era in Cristo nel riconciliare il mondo adesso Cristo è in noi per mezzo dello spirito santo e la stessa brama di Cristo dovrebbe esserci in noi se non c'è questo dentro di noi c'è un problema ragazzi e con tutto rispetto al nord questo problema lo vedo ancora peggio rispetto che al sud è come se in realtà c'è uno spirito santo del nord e uno spirito santo del sud ma non c'è né il sud come non c'è lo spirito santo junior e senior per i bambini che c'è un piccolo spirito santo lo spirito santino scusami santina santina spirito santo è spirito santo punto mi seguito o no? figli è come quando c'è un gallo dici sai in Giappone il gallo no in Giappone no può fare se un gallo è gallo quando spunto il sole tranne che è spasciato ma voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete testimoni fino all'estremità della terra sapete tutta la sequenza mi state seguendo o no? no figli cioè lo spirito santo produce in noi un senso di urgenza lo spirito santo come va a dire come ve lo devo dire non vi distrette non vi preoccupate non venite un orario la prossima volta scherzo scherzo di preoccupare loro come avete sono persone serie sono venuti con la mascherina l'avete detto guardatevi intorno allora mia moglie di mascheruccia è vero hai ragione hai ragione allora ascoltatemi quando se lo spirito santo non trova ostacoli dentro di noi c'è scritto che l'amore di Dio mi costringe seguitemi bene significa che dentro di noi scattano dei meccanismi che vanno oltre il proprio ego oltre il proprio interesse personale fai delle cose con un amore differente perché l'amore che non avevi c'è l'amore non ce l'abbiamo noi in natura quello che poi ci viene rilasciato nel pacchetto dono potenza dunamis chiamato spirito santo l'effetto che produce è trasferire la mente di Cristo dentro di noi sto dicendo in 30 secondi 1 Corinthians 2 che è straordinario quando dice cioè è inutile che cercate nel naturale qualcosa che ripeto cioè nel naturale è stato privato totalmente che è l'amore di Dio la mentalità no? perché carne e sangue non possono manco capire che significa per questo dice mi sarete testimoni in Marco 16 17 dice che questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto non solo parole ma un impatto su qualsiasi territorio in cui il Signore ci invia come suoi testimoni e Gesù non predicava solamente non insegnava solamente predicava e insegnava ma soprattutto cacciava demoni se c'era una passione che aveva Gesù era quello di distruggere le opere delle tenebre distruggere le opere di Satana allora io lo capisco di certi versi essendo lui il creatore ha visto un usurpatore della sua creazione per effetto dell'ignoranza purtroppo del genere umano che ha ripeto preferito un seduttore a un creatore e per questo so che nel momento in cui il suo odio per il male il suo ripeto la sua spinta quella di Gesù entra dentro di noi nel momento in cui la nuova nascita per mezzo dello Spirito Santo ci cambia il modo di pensare e per questo noi non predichiamo e insegniamo solamente ma scacciamo demoni parleranno in lingue nuove imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno in poche parole il Regno dei Cieli si è avvicinato a voi noi trasportiamo il Regno dei Cieli perché lo Spirito Santo dimora dimora in noi non passa occasionalmente Apocalisse 2.1 quando il giorno Atti 2.1 scusatemi Atti 2.1 quando il giorno della Pentecoste giunse io sto facendo solo ed esclusivamente un'introduzione perché poi questo verrà sviluppato in questi due giorni quando il giorno della Pentecoste giunse tutti erano insieme nello stesso luogo improvvisamente si fece dal cielo un suono come il vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti di questo so che qualcuno ve ne parlerà in dettaglio apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi fino adesso per come Viota per questi 40 minuti detto significa 1 Corinthians 14 4 poi Paolo lo spiega parlare in lingue edifica e fortifica se stessi significa si riposa per mezzo delle lingue è una possibilità che tu hai di esprimerti senza interferenza della tua mente e in realtà è scritto che tu ringrazio in quel momento fai un bel ringraziamento perché perché diventa asettico non inquinato da effetti emozionali che vengono da un'anima che non è così asettica da qualsiasi possibilità che questo sistema la possa contaminare non lo sarà mai così limpida fino a quel punto per questo abbiamo bisogno di un canale Luca 11 9 dice perciò vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto non c'è scritto vi sarà aperto anche se voi non vi interessa e vi sarà dato anche se non state chiedendo no no è tutto al contrario poiché chiunque chiede riceve chiunque chiede riceve e chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa e chi tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra o se gli chiede un pesce gli dà al posto del pesce una serpe o se gli chiede un uomo un uovo gli dà uno scorpione e qui c'è la chiave se voi dunque che siete malvagi ora ci sta ognuno dica io sono malvagio ho sentito solo voci di donne perché gli uomini invece no cioè siete con Dio con la pe no dillo io sono malvagio nella mia carne non abita alcun bene senti quanto puzzo se dunque voi che siete malvagi e sapete dare buoni donne ai vostri figli quanto più il vostro padre celeste donerà donerà lo spirito santo a coloro che glielo chiedono lo spirito santo è il dono più grande che potremmo ricevere io non lo so con quale coraggio a volte abbiamo quel senso di tristezza velato che abbiamo guardando telegiornali situazioni varie quando noi abbiamo il dono più grande cioè noi ciò che potremmo desiderare di più grande lo abbiamo già ottenuto gratuitamente io non so quanti di noi vivono questo come possiamo dire questo senso di gratitudine che viene dal fatto che lo spirito santo è stato già donato non c'è qualcosa che deve accadere ma c'è qualcuno che tu devi ricevere Matteo 13 44 il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo vi posso dire una cosa c'è una fase nella nostra esistenza che è questa fase naturale in cui tu devi avere sia il campo che il tesoro non puoi estrarre il tesoro e mollare il campo il campo riscattare il campo dove il tesoro è stato inserito e l'olio inclusivo con cui noi dobbiamo procedere coscienti che ancora non puoi separare il tesoro dal campo figlio mi state seguendo o no? e quindi c'è un tempo in cui le due cose vanno insieme ma il tesoro è nel campo e quando tu vendi tutto quello che non serve affinché il tuo terreno possa essere custode come abbiamo aperto oggi non sapete che voi siete voi io sono il campo io sono il tempio il luogo in cui lo spirito santo risiede un tesoro nascosto nel campo atti 4 29 dice ed ora signore considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza stendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù e dopo che ebbero pregato il luogo dove erano radunati tremò e tutti furono ripieni di spirito santo e annunziamano la parola di Dio con franchezza io non so se avete notato una cosa la Pentecoste già c'era stata nel capitolo 2 qui che cosa era accaduto cosa era accaduto qui un'altra Pentecoste o era un altro rabbocco di spirito santo vi posso dire una cosa la nuova nascita avviene una volta sola ma i battesimi nello spirito santo possono avvenire in qualsiasi momento ognuno di noi perché tutto quello che vi ho detto e io devo stare nei 40 minuti no non perché ci sono già quasi sto per concludere ma io voglio concludere dandovi oggi una cosa che credo che sia fondamentale per ognuno di noi se è accaduto nel capitolo 4 significa i teologi dicono che ogni capitolo negli atti degli apostoli corrisponde a un anno più o meno significa che era trascorso del tempo è ovvio che si stavano organizzando Satana stava cercando assieme ai giudei animando i giudei nel cercare di rallentare se non addirittura fermare con la paura della persecuzione i figli di Dio che stavano cominciando ad avere grande successo 3000 alla prima predicazione di Pietro 3000 si battezzano e se voi vi ricordate altri 5000 insomma la chiesa cresceva in atti 2 c'è scritto che avevano il favore di tutto il popolo e tutto il resto ma non penso che Satana diceva ormai hanno vinto li lascio in pace sapete che invece si scatenò di tutto e sappiamo che quella tempesta perfetta a cui facciamo riferimento li portò ad andare un po' oltre Gerusalemme perché si stavano accomodando a Gerusalemme quando Gerusalemme doveva essere il punto di partenza non il punto di partenza di arrivo ora non penso che siamo qui per poter fare una specie di circolo del benedicimi e ungimi io penso che se siamo qui abbiamo spesso ci scambiamo delle valutazioni che riguardano anche il territorio e spesso come anche il lunedì il Signore mi ha dato mi ha ispirato per poter un po' parlare ai cristiani per fargli vedere i tempi che stiamo vivendo e anche qual è la nostra funzione qui c'è stato un momento quello che vi ho detto fino ad ora è tanto per ricordarvi chi è lo Spirito Santo e cosa produce ricordo di una cosa in 2 testa lunecesi 2 c'è scritto c'è chi e cosa lo trattiene in questo momento se ancora è tutto pronto per poter manifestare quello che la scrittura anche in Giovanni chiama Anticristo però c'è ancora come una specie di diga che che è pronta per essere completamente collassata e riversare è come se ci fosse qualcuno che la sta trattenendo è qualcosa che la sta trattenendo è ovvio che fino a quando la sposa di Cristo sarà presente fino a quel momento lo Spirito Santo è colui che deve proteggere la sposa per poterla presentare senza macchia e senza ruga ma per potere ripeto e questa dovrebbe essere la nostra funzione non fare i pentecostali in giro chieni di spirito senza concludere quello che lo Spirito Santo desidera realizzare attraverso di noi non possiamo immaginare che il dono di partenza è diventato il dono di arrivo quello delle lingue non possiamo immaginare che il pentecostalesimo sia solo ed esclusivamente un manifestare un linguaggio spirituale fini a se stesso quando quella condizione dovrebbe stimolare ognuno di noi a essere ogni giorno riempito di motivazione e la motivazione è vi supplichiamo siate riconciliati significa che noi siamo agenti di riconciliazione perché lo Spirito Santo è colui che è stato mandato per riconciliare adesso attraverso di noi noi siamo coloro che trasportano noi siamo il mezzo visibile e tangibile di colui che è invisibile abbiamo letto l'inizio il mondo non lo può conoscere perché non si vede e non lo conosce ma a te ti vedono a te ti conoscono sapete bene che non tutti leggeranno mai la Bibbia non la leggono ma anche i credenti immaginate voi però tanti possono parlare con te e vederti e se vedono un evangelico con tutto il rispetto ragazzi forse a volte faremo bene a nasconderci come evangelici ma se vedono un figlio che come è scritto qua no guarisce e compie segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù affinché ripeto si possa annunziare la tua parola con ogni franchezza e la parola del Vangelo è portare quella riconciliazione è portare la soluzione dove andremo noi tu hai parole di vita eterna colui che aveva parole di vita eterna adesso abita in noi per mezzo dello Spirito Santo e quindi significa che come lui aveva parole di vita eterna dalla mia bocca devono uscire parole di vita eterna non parole di religione da dove arriverà nel Trentino o nel Veneto non lo so da dove voi operate perché se noi abbiamo immaginato di aver ricevuto lo Spirito Santo per rimanere chiusi in quattro mura farci una conferenza ogni tanto vederci la domenica questo è frustrante figli senza avere obiettivi era così frustrante che è come quando non lo so tu prendi un bambino che ha tutte le potenzialità per poter nuotare ma non vuole nuotare perché ha deciso di proteggersi con l'astenzione al nuoto non nell'affrontare l'acqua e provare a nuotare che ha tutte le capacità visto che c'è un papà che gli dice ti insegno io a nuotare non possiamo sottrarci solo perché abbiamo quel senso di bisogno perché se no significa che abbiamo creduto in vano figli se non abbiamo la motivazione lo Spirito Santo ripeto dentro di noi la prima cosa che produce si chiama amore il primo la prima cosa protos significa amore primordiale che è l'amore di Dio che viene trasferito dentro di noi e scatta quella che si chiama compassione non scatta la religione ma che quando noi ci troveremo di fronte a Gesù figli cosa diremo cosa diremo siamo stati buoni evangelici signora sapevamo a memoria qualche versetto qualche cosa parlavamo e avevamo un pesciolino impegato nella macchina poi con questa temperatura del pesce provate a immaginare che puzza che fa alcuni cristiani stanno facendo ascoltatemi stanno facendo un pessimo lavoro di testimonianza a tal punto che essere cristiani in questo momento è come una specie di ingiurio di imprecazione portare il profumo di Cristo non significa che dovunque tu vai devi parlare solo e esclusivamente per poter essere ascoltato dagli evangelici che possono dire vi hai fatto bene l'apostolo Paolo non andò più ai giudei ai giudei c'è un pescatore e un teologo rabbino andò invece in colore che non sapevano manco che era Torah e qualsiasi altra cosa ai gentili perché noi da soli rischiamo ripeto di indottrinare la gente e non portare la buona notizia ed ecco Signore considera le loro minacce io credo che almeno per quanto mi riguarda ho 57 anni e non ho mai visto un periodo così terribile come quello che stiamo vedendo noi ieri mi hanno mandato un video in cui dei dei pro abortisti che sapete come tu cacciai in giro prendevano a calci la Bibbia proprio se la passavano a calci così perché? perché identificano sempre il cristiano come uno che è contro qualcuno o qualcosa perché siamo spesso stati portati più a a difendere delle regole piuttosto che a portare un amore e il rischio è proprio Cristo cioè come noi pensiamo qui cosa sarà dopo questa conferenza chiamiamola conferenza o appuntamento divino come l'avete detto cioè dopo che sarà un'altra conferenza in più nel mio curriculum di evangelico o dovrà servire visto che il titolo è un promemoria sapere cosa che dono grande abbiamo ricevuto questo dono che stiamo facendo considerato che possiamo rattristarlo ma non ho detto che possiamo anche spegnerlo non spegnete lo spirito con il quale siete stati suggellati non spegnetelo per questo io credo per quello che abbiamo detto visto che è l'inizio che abbiamo bisogno di chiedere perdono per aver trascurato la comunione con lo spirito santo che era quello che ci viene chiesto comunione con lo spirito santo comunione con lo spirito santo non significa 5 minuti di lingue significa come abbiamo letto avere la sua stessa motivazione coinonia significa essere in società significa o lui o io è la stessa cosa quando Gesù diceva chi ha visto me ha visto il padre quanti possiamo dire chi ha visto noi sento lo spirito santo parlare non c'è bisogno di dire lo spirito santo ti sta parlando non ci fosse bisogno quando Gesù li mandava e gli diede lo spirito santo perché il prodotto di quella missione dei 12 e dei 70 fu proprio il prodotto di ciò che lo spirito santo è in grado di realizzare risuscitare morti cacciare demoni imporre le mani e cambiare le atmosfere delle famiglie quando entrate in una casa dite pace a questa casa non significa entrate dite pace che è diventato un saluto pace 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 anche di questo che doveva essere un'azione è diventato solo una forma un saluto che a volte è anche irritante perché dietro quel pace che a volte viene scambiato c'è una tensione data da un'ipocresia latente se non potete ridere fate così con le mani siamo il tempio di Dio sì o no se oggi noi stiamo ricordando di essere il tempio di Dio il tempio di Dio come può essere sporcato con quella immondizia che noi quale desiderio la cerchiamo il cane che torna al vomito chiediamo perdono se lo abbiamo rattristato e credo che questo sia il primo atto che dobbiamo fare perché se siamo venuti qua a prendere degli appunti per poi metterli da parte neanche ricordarci di quello che abbiamo scritto ragazzi sarà un'altra occasione persa e noi abbiamo tutto sto tempo stai tranquillo il Signore raggiungerà chi deve raggiungere perché Lui non lascerà all'asciutto e comunque darà un tocco a chiunque in una porta anche se è chiusa ma non è detto che quella porta che era stata assegnata a te non verrà data a qualcun altro perché tu sei stato interessato a qualcos'altro sapete che ognuno di noi ha un destino gli è stato assegnato attraverso un talento o qualcosa come è scritto e un giorno che diremo Signore c'era la televisione c'era ero giovane e l'ormone oppure ero un pastore dovevo fare sai che significa franchezza sai che significa semplicità e Paolo diceva io proprio sono preoccupato che la perdete questa semplicità per questo ebrei 4.16 dice accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazie ed essere soccorsi al momento opportuno vorrei che ci alzassimo in piedi senza distrarci ho voluto solo fare un'introduzione perché abbiamo deciso di non andare via da questo luogo come siamo entrati il capitolo 4 è scritto che furono riempiti di nuovo dai Spiriti Santo ascoltatemi non vuoi tu camminare con una macchina che ha fatto solo un pieno e crede di poter fare tutti i chilometri che vuole tu hai bisogno di rifornirti perché a benzina si consuma e questo è un periodo in cui forse ve ne siete resi più conto se noi non avete comunione con lo Spirito Santo lo Spirito Santo non è una forza da usare ma è qualcuno da onorare è qualcuno da amare con cui parlare con cui stare insieme ha una pazienza infinita è il dono più grande sì mi importano gli effetti speciali sì ogni tanto ci può pure stare però perché non stai cercando più che un effetto emozionale un effetto sostanziale radicale dentro di te cambia signore voglio cambiare il modo di pensare perché quello che è sicuro è che lui non può agire a dispetto della tua volontà non può agire se tu non vuoi quando Gesù guardava Gerusalemmo quando guardava il giovane ricco e tanti altri dicevano quando è complicato non per me è complicato perché non vogliono e se tu stasera non vorrai realmente dire Spirito Santo ti chiedo perdono se ti ho rattristato se ti ho deluso se ti ho offeso se ti ho reso scomodo perché se la domenica vengo qui oh signore manco sempre e alzo le mani davanti a te così in un'emozione di un canto e poi fuori oh signore questo tempio è esposto ad altro volontariamente se servo due padroni contemporaneamente due signori oh signore ti chiedo perdono se ti ho reso scomodo se ti ho quasi trattato come una specie di parente da allontanare perché perché non lo so perché mi sono negato a te e mi sono negato di essere tuo figlio non ho manco ricordato che attraverso questo dono signore io ho una responsabilità anche da onorare e che è la migliore l'unica per cui vale la pena spendere oh padre il tempo che ancora mi resta da vivere cosa sto cercando fate la stessa domanda figlio perché se tu oggi tu vuoi il luogo non c'è bisogno che tremeranno le pareti poi il spirito santo può fare quello che vuole ma che deve tremare la parete del tuo cuore si che deve vibrare come i discepoli sulla via del mouse che parlavano a proposito però non potevano negare che stavano sentendo che in quel momento lo spirito santo ci stava parlando perché Gesù era lì fisicamente non l'avevano riconosciuto la domanda è che stai cercando che o chi stai cercando perché colui che dovevi ricevere lo hai già ricevuto e il dono più grande è già stato dato a te stai cercando acqua che non ti disseta stai cercando pane che non ti sazia quello che ti chiedo in questo momento se tu vuoi ricevi ora ora la domanda che ti faccio è questa visto che non avete mascherine non avete niente allora a questo punto andiamo fino in fondo senza vergogna senza niente se tu vuoi devi fare un passo chiedi e ti sarà dato bussa e ti sarà aperto il bussare a volte è un'azione umiliante perché devo bussare il chiedere mi è resistente perché perché io non ho mai chiesto niente questo è il problema del tempo perché chi si abbassa sarà innalzato se tu riconosci di avere un po' perso questa comunione con lo Spirito Santo io ti chiedo di lasciare il tuo posto e venire qua e prendere posizione e ammettere senza badare a nessuno perché guarda che nessuno di noi è innocente o colpevole c'è bisogno di marcare questo momento il Signore ti ha portato qui per questo motivo il Signore ti ha portato qui perché ti vuole ancora rinnovare la sua promessa prendete il vostro spazio venite qui e prendetevi veramente il vostro tempo figli venite a me grazie a tutti Grazie.